Nel menu Hub, è possibile impostare e abilitare aree e programmi. La centrale Lario consente di inserire tre aree indipendenti e tre programmi per ciascuna area. Attraverso l'apposito campo, è possibile impostare il nome di ciascuna area ed assegnare i programmi. Nel menu avanzate è possibile impostare i parametri generali. Si possono impostare tempi diversi di uscita e di entrata per ciascuna area. È possibile impostare manualmente i parametri per la connessione tramite Wi-Fi, o l'APN per la connessione tramite SIM dati.